Buonasera e ben ritrovati in nuovo appuntamento con il nostro Focus Targato Star Casino Sport Oggi ci concentriamo su quelli che saranno le partite per quanto... Buonasera e ben ritrovati in nuovo appuntamento con il nostro Focus Targato Star Casino Sport Noi oggi iniziamo ad introdurre quello che sarà l'argomento... Le luci si accendono? Quelle si accendono? Ciusi Meloni con Star Casino Sport Buonasera, benvenuto e ben ritrovata Buonasera amica Sì dai, no, non potrei mai Come pure? Posso dire siamo pronti partire Allora presentiamo le ragazze Non so neanche come si chiamano, dai Non le saluti neanche in camerino perché siete gelose Non è vero Non è vero La truccatrice Buonasera Buonasera Perché tutto è di nero stasera? Buonasera e ben ritrovati in nuovo appuntamento con il nostro Focus Targato Star Casino Sport Ovviamente il countdown è iniziato per quelli che saranno gli europei under 21 Ovviamente grande Buonasera a tutti i nostri ho